Ciao a tutti, io e Piccettino, che siamo arrivati un po' lunghi in questo giro, vi invitiamo al nostro Halloween festeggiato da Maxi di Tiran Dog. Questo qui è il venticinquesimo Maxi, ma il quarto della nuova serie. La copertina è di Gigi Kavenago, che ormai è sempre più padrone del personaggio, sempre incisivo, ci dà un bello omaggio neanche troppo velato ad Halloween. Gruccio in copertina, praticamente tutto perfetto. A questo punto, dopo tutte queste prove che ci ha dato, non vediamo l'ora di vederlo all'opera sul famoso trentennani stile pittorico. Quindi Kavenago assolutamente promosso. Il rito dice tre storie sul Maxi, la prima è Halloween Express. Giorgio Puntrelli ci porta a fare un viaggio notturno, fatto di situazioni e di personaggi vari ed eventuali, con un Dylan fondamentalmente spettatore. Il suo tratto è etereo, il nero è usato pochissimo, direi per la giacca di Dylan è poco altro. E si sposa perfettamente con la storia d'amore, che però è una storia d'amore a tema Halloween. Decisamente la copertina e la storia richiamano Halloween. E' praticamente un sogno ad occhi aperti. E' una signora storia, ed è anche un signor disegno. La storia è di Giulio Antonio Gualtieri, Stefano Marsiglia e Michele Monte Napoleone. Sono venuti ben tre sceleggiatori per questa storia. E ci portano nella notte di Halloween. E' una vera... Scusate se è il gatto che sta giocando. Ci portano nella notte di Halloween. I compagnieri di Dylan Dock e di Giulie. Giulie è la ragazza con cui Dina fa proprio questo viaggio nella notte. E' una storia molto romantica, che si sviluppa più che come trama per situazioni, per momenti. Forse è un pochino forzato l'inserimento di alcuni personaggi storici e persino forse di Grucio. Però non c'è nessun difetto degno di nota. Quindi è una storia veramente bella e forse è la migliore dell'otto. La seconda è sul filo della spada. Luca dell'uomo. Luca dell'uomo è un classico di Dylan. E' uno dei genitori storici. E' ritornato di recente sulla testata. Il suo tratto è classico, morbido, gommoso, quasi alanfordiano. Guardate il Dylan della terza vignetta di pagina 108. Quello dice molto. E ci accompagna ad una mostra con tema Giappone medievale. Lo fa in maniera convincente, unendo sia parti molto alla Martin Mister, quindi di indagini e spiegazioni, sia parti molto molto action. E non ci sono mai cale di qualità. Credo che da quando si è tornato sia il miglior dell'uomo che abbiamo visto. Ma credo che possa alzare ancora di più l'asticella. Quindi sono convinto che in futuro potrà dare ancora di più dell'uomo. La storia di André Cavaletto. Che personalmente mi è simpatico. Però questo giro ha fatto una storia fracassona. Molto molto sconclusionata. Di cui apprezziamo più le varie citazioni cinematografiche e anime. Nel senso che troviamo Sean Connery, Occhi di Gatto. E altre 3518 citazioni varie ed eventuali. E preferiamo quelle citazioni allo svolgersi vero e proprio. Cioè ottimo uso di grucio, ottimi personaggi che tengono in piedi però una trama francamente molto esile. Salvata in corner dal bellissimo finale, anche romanticissimo, forse anche amaro finale, di pagina 193-194. Diciamo che è una storia da prendere senza pretese. Leggetela e a molti piacerà, ad altri non piacerà. È una storia così. Quasi più da ombrellone estivo. A cena con il morto. A cena con il morto chiude indegnamente il maxi. Ugo Lino Cosso e disegni, come si dice, è una garanzia. Il suo tratto è sempre quello, non è mai cambiato, è uno stile mutato da sempre. Solo che i difetti sono sempre quelli. Ugo Lino Cosso è troppo plastico, sembrano molto manichini in posa i suoi personaggi. Inoltre Dylan, secondo me, è disegnato veramente al limite della sufficienza, soprattutto i capelli. Cosso fa dei capelli che a me personalmente non piacciono minimamente. Però c'è da dire che non ci sono cali e non c'è discontinuità. Il tratto è sempre quello per tutte le 94 tavole. Che dire? Credo che nel maxi abbia trovato anche lui una sorta di dimensione. Perché il suo tratto si sposa con quello che è il maxi. Dove non c'è innovazione, ma c'è tradizione. Però decisamente non rientra nel mio podio di disegnatori favoriti. Ma la cosa veramente brutta è la storia di Giovanni Di Gregorio. Firma, secondo me, la peggiore del maxi. È una storia che ci dà la più antipatica delle doggirl che abbiamo mai visto, che è Magda. E più antipatica di lei credo non ce ne siano mai state. Si passa poi a un Dylan, versione dodicenne, a ti chiamo, non ti chiamo, mi respingi, ma poi ti chiamo, ma sono lì che pendo da te. Cosa che non si vedeva da un bel po'. Tutto il resto è il solito casi di ordinaria follia, che poi sfociano in un, come si può dire, in un finale a Rambo. Finale che non c'entra niente con il tono della storia. È totalmente evitabile. E soprattutto è totalmente fuori contesto. Praticamente, secondo me, questa storia è il punto più basso mai toccato dai maxi nel nuovo corso. Quindi dei quattro maxi usciti questa è la più brutta in assoluto. Concludendo. 6,50€. Ditemelo voi. La prima storia è da avere. La prima storia è da antologia. La prima storia veriterebbe da solo l'acquisto del maxi. Oltre alla pubertina. La terza è totalmente evitabile e credo farà venire l'orticaria ai più. Nel mezzo abbiamo una storia simpatica che va presa senza pretese leggera. Un maxi che fondamentalmente consiglio a chi vive di pane ed ilan e a chi non vuole buchi in collezione. Perché sono convinto che la prima storia prima o poi sarà ristampata all'interno della collezione Super Bucchio. Perché è davvero meritevole. Il resto, vabbè, decidete voi. Secondo me 6,50€ a questo giro potete tenerli in tasca. Ciao a tutti!